L'anno che si è appena concluso si è praticamente chiuso nel peggior dei modi. Abbiamo assistito a gravi forme di inquinamento, abbiamo addirittura ascoltato minacce di guerra, quindi rumori di guerra, guerra nucleare, guerra atomica. Insomma ci chiediamo questa umanità dove crede di andare di questo passo. Il sottoscritto ha incontrato nuovamente Luciano De Bei, esperto in filosofia, per capire un po' questa situazione. Ascoltiamo dunque la prima parte di una lunga intervista. Noi ci sentiamo al termine. Guarda Massimo, come posso iniziare il discorso? Io lo dividerei, per risponderti alla tua domanda, in due fasi, in due tempi. La prima parte è importante per capire la seconda. Nella prima parte esporrei i concetti che noi tutti stiamo in qualche mondo sperimentando come società. Che è poi alla fine il crogiolo su cui noi stiamo vivendo e anche sperimentando le nostre sofferenze. Allora la prima parte, quindi l'aspetto sociale che ci coinvolge tutti, dove sta andando, dove ci sta portando. Allora noi viviamo una crisi, per esempio, oggi, mai sperimentata dal dopoguerra. E da chiedersi, questa crisi è naturale o è artificiale? È il sistema economico che sta collassando o è pilotata da qualche forza occulta che vuole tutto questo? Per entrare in queste considerazioni, e quindi poi svilupperò nella seconda parte meglio, c'è bisogno di sviluppare da parte di noi tutti una coscienza che attualmente non c'è. Tutto ruota attorno, quando dico tutto, sia la società che l'individuo e nella propria vita, ruota attorno alla coscienza che deve avere. Allora, questa crisi, come stavo dicendo, è naturale o no? Indubbiamente, noi stiamo pagando, in termini di società, di prezzi altissimi. Si sta riducendo sempre più la forza lavoro. Il lavoro sta sempre più diventando una cosa rara. Gli stessi benefici, i benefici che il cittadino aveva, oggi, gli stanno quasi giorno per giorno sottraendoci. In poco tempo, quindi, in pochi mesi, anche dall'ultima intervista che tu mi hai fatto, io vedo nella società un impoverimento in questo senso. Ed è tutto a vantaggio di pochissime classi privilegiate. Quindi c'è questa forbice, come dire, economica, che si sta sempre più aprendo, creando masse sempre più di poveri e gruppi sempre più ristretti di ricchi. Sempre più ricchi. Questo è di conseguenza, magari, al fatto che abbiamo oramai un mercato saturo. Perché, insomma, con questo sistema mi viene da ridere. Perché dico, ma com'è possibile andare avanti a produrre, produrre, produrre? Ovvio che poi, alla fine, arriviamo ad una saturazione. Allora, certo, questo può essere vero. Perché il sistema economico, così come l'avevamo concepito, prima o dopo arriva a una forma di saturazione. Ma non è questo che, secondo me, è determinante nella nostra crisi. Io credo che, invece, ci sia un altro fattore, molto più subdolo, nascosto, sul rettizio che passa di nascosto all'attenzione quotidiana di tutti, che siamo sempre presi più per altri problemi quotidiani che già qualche anno fa non avevamo. Ed è quello che si vuole, secondo me, toglierci la libertà di poter essere un popolo libero. Come? Attraverso il cambiamento o addirittura l'eliminazione della Costituzione. Abbiamo già fatto un referendum, se ti ricordi, poco tempo fa. E gli è andata male? Ma ci riproveranno. Loro vogliono, così come nell'articolo 18, intanto per dirne una che hanno mano libera nel mondo lavoro, loro vogliono cambiare la Costituzione. L'articolo 1 della Costituzione parla che è una Repubblica fondata sul lavoro. Togliamo il lavoro, non c'è più la Repubblica. Allora, questi articoli di legge vengono poi rispettati, sì o no? È comunque gravissimo anche il fatto che siano andati a toccare un articolo così importante come il 18 del mondo del lavoro. Certo, questo non per chi già, diciamo, lavora attualmente, ma è in proiezione dei prossimi, come dire, operatori di mano d'opera, che sono i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi vanno a compromettare, noi praticamente, parliamoci chiaro, abbiamo ormai distrutto, non messo in gioco, abbiamo distrutto il futuro dei nostri figli. Gli abbiamo sottratto la pensione, gli abbiamo sottratto una capacità di mettere su una famiglia. Una volta bastava che lavorassi una persona sola per poter sostenere una famiglia. Oggi neanche due persone riescono a farlo. E questo è un dato di fatto, hai fatto bene a ricordarlo, a richiamare questa cosa? Sottolineo solo così, a grandi linee, perché abbiamo anche pochi minuti di poter colloquiare tra di noi, ma sottolineo questi aspetti così evidenti per richiamare l'attenzione su questi aspetti. Perché? Perché l'uomo, il cittadino quindi, non può vedere queste cose come un dato naturale. La libertà, per esempio, è una cosa fondamentale che va difesa, va protetta e va alimentata. Se non c'è libertà, non c'è coscienza, qui è il punto. E se non c'è coscienza, non c'è progresso sociale. Ecco che allora loro stanno intaccando, dico loro chi? Il potere è forte, che vogliono accentrare il potere ancora di più di quello che hanno. Ecco, decodifichiamo meglio, allora lo faccio io. Chi sta dietro ai soldi, chi ha in mano delle, diciamo, regie occulte, che gli manovrano i vari spostamenti, diciamo, di ricchezza, nei vari stati mondiali, insomma. Ecco, ci sono dei stati che sono molto ricchi, ad esempio, ma lasciamo stare puntini puntini. Comunque, proseguiamo con il ragionamento che è molto interessante. Quindi, allora, dove stiamo andando? Se uno pone un po' di attenzione, sicuramente tu ne saprai meglio di me, perché sei a contatto con queste tematiche quotidiane, ma io, nel mio modesto modo di vedere, stiamo andando in una condizione sempre più di schiavitù. Un tempo, nel Medioevo, c'erano gli schiavisti, no? Come tu ben sai, che hanno rimpinguato il nuovo mondo, cioè l'America, importando navi intere di schiavi. E stanno ancora pagando le conseguenze di quegli atti. Oggi non fanno più così, vanno sempre con le navi. Gli invitiamo, però, questi nuovi schiavi, ad arrivare offrendogli l'immaginario che non c'è. Quindi una politica d'immagine. Certamente. Qui noi stiamo, dico noi nel senso come paesi occidentali, Europa, eccetera, gli stiamo attirando, come si attirava un tempo, l'indigeno con gli specchietti. Ma questi sono i futuri schiavi che agiranno in questo continente. entreranno in contraposizione con i nostri, diciamo, con i cittadini, che dovranno, che si voglia o non si voglia, diventare schiavi. Infatti abbiamo degli esempi che sarebbero, potremmo dire, i nostri figli che lavorano per pochissimo denaro all'ora, diciamo. Manca poco che tra poco gli dicono se vuoi venire a lavorare qui, visto che c'è tutta questa crisi, però è un erro all'ora. Le ferie non esistono, le festività non esistono e non si fa nulla, nessuno si muove per risolvere questo problema. Quindi è una cosa veramente allucinante. Allora, torniamo un po' al discorso. Io ho fatto questi cegni solo per dire che se noi perdiamo la nostra coscienza come esseri umani, perdiamo sicuramente la libertà. Abbiamo perso, stiamo perdendo sempre più la qualità della vita. In questo senso ci stanno abbruttendo come coscienza perché in contrapposizione e in alternanza a possibili tentativi di ribellione ci offrono delle soluzioni veramente, a dir poco, allucinanti. Programmi televisivi assurdi, sport assurdi, va bene? E quant'altro. Droga per ne dire, alcol per dire e via dicendo. Sesso, non ne parliamo neanche perché la libertà su tutti i fronti. Perché la libertà su quel tipo di fronti? Perché c'è la libertà nella condizione della, come dire, essere contro la natura. No? La trasgressione. Perché la trasgressione? Perché la libertà della trasgressione? Te la concedono a braccia aperte. Perché ti tolgono la coscienza. Riprendiamo da studio. Ringrazio Luciano De Bei, esperto in filosofia. Dunque prosegue questo nostro filone di ricerca. Dove va questa umanità? La prossima settimana ascolteremo la seconda parte di questa lunga intervista. Nel frattempo io mi concedo da voi. Vi ringrazio per averci seguito. A voi tutti un buon proseguimento con le nostre trasmissioni. A a a a a Grazie a tutti.